Una montagna di rifiuti edili, lamiere, avanzi alimentari, bombole di gas e ossigeno, istintori in biossido di carbonio, ma anche ciclomotori e veicoli fuori uso, tutti sversati illegalmente su una superficie di 300 metri quadri, già occupata da un opificio. Uno scenario allarmante scoperto dalle fiamme gialle di Pescara, all'esito dell'operazione Trash, nell'ambito della quale i militari, individuati due proprietari del sito in evidente stato di incurio ed abbandono, hanno fatto scattare il blitz. Sequestrata all'area, i finanzieri, grazie all'ausilio delle unità cinofile, hanno anche rinvenuto sostanze stupefacenti, in particolare cocaina nascosta da uno dei responsabili. Entrambi sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per violazione del codice dell'ambiente. Sono in corso ulteriori approfondimenti sui veicoli rinvenuti, nonché sull'eventuale danno ambientale causato dalla prolungata infiltrazione di oli e percolato nel sottosuolo e dalla continua persistenza sul terreno di materiali tossici. Le discariche abusive, infatti, oltre ad essere nocive per l'ambiente circostante, sono soprattutto deleterie per la salute. I dati, i rischi legati all'inquinamento da roghi di rifiuti e da sovraccarico di metalli pesanti nelle falde acquifere. L'operazione Trash accende i riflettori su un quadro di illegalità ambientale alimentato da pratiche abusive di smaltimento dei rifiuti, afferma il colonnello Antonio Caputo, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, che spiega che spesso queste condotte rimandano un meccanismo di elusione dei costi connessi ad una corretta gestione dei rifiuti accolti negli impianti a fronte di un corrispettivo, sia nei casi più eclatanti, quando i rifiuti derivano da un traffico clandestino, sia nel caso di chi agisce in un'apparente cornice di legalità ma non può permettersi di subire controlli sulla quantità dei rifiuti ricevuti e sulla qualità della sua gestione.